buongiorno a tutti ci troviamo a racconigi a vedere le soluzioni buyer per i maiscoltori soluzioni intese come ibridi grazie colleghi decalb nella concept farm e soluzioni intesi come crop protection quindi difesa del mais nella prova col centro di saggio sata oggi siamo all'interno di una concept farm sono campi dove abbiamo l'opportunità di visionare con le aziende agricole tutte le nostre soluzioni e quindi in questa concept farm abbiamo l'opportunità di vedere ibridi mais a confronto soluzioni digitali innovative e la strategia di difesa dei diserbi dei colleghi di buyer crop science io sono gastaldo mario uno dei fratelli della società agricola gastaldo fratelli quest'anno abbiamo seminato poi abbiamo diserbato in posta emergenza precoce c'era molto loietto siccome l'anno prima abbiamo tagliato tardi il seme è rimasto sotto quando abbiamo arato questa primavera il loietto è emerso prima del mais e abbiamo usato ad angostra il campo è stato pulitissimo abbiamo risolto il problema al 100 per cento sono mario cavanna mi occupo di marketing operativo sul territorio qui siamo nel cuore della maiscultura del piemonte dove abbiamo scelto un campo per dimostrare la validità delle soluzioni dei diserbi buyer per il mais siamo qua in campo per valutare l'assortimento di infestanti presenti siamo nella parte trattata con ad angostra vediamo il risultato veramente risolutivo oramai sono due mesi dal trattamento il mais è cresciuto rigoglioso non vi sono state rinascite di infestanti direi che è un risultato pienamente soddisfacente per l'agricoltore asset farm e prova sperimentale dimostrano l'ottima efficacia di ad angostra oltre all'efficacia per valere molto importante la nuova tecnologia questa tecnologia extra che aiuti maiscoltore a rendere più sostenibile la produzione del mais